Ciao ragazzi e benvenuti su Italian Stories with Davide, il podcast che vi parla in italiano di storie, lingua e cultura. Prima di iniziare, come sempre, cliccate Segui o Follow su Spotify, Apple, Google Podcast, Castbox e di lasciare un commento o una recensione, se non l'avete ancora fatto. Scaricate anche la trascrizione gratuita dell'episodio sulla mia pagina Patreon con le parole più difficili. Allora, in questi giorni si sta giocando in Europa l'Europeo di calcio, il più importante campionato di calcio per selezioni nazionali del continente. E la nazionale italiana è in grande forma e ha una buona squadra quest'anno. Purtroppo, però, l'unica volta che abbiamo vinto il titolo era il 1968, ben 53 anni fa. Era un periodo speciale di ricchezza economica, ma anche di scontri ideologici importanti, soprattutto a sinistra. Molte cose erano cambiate nella società italiana e molte sarebbero cambiate. Quindi, sigla e diamoci da fare! 5 giugno 1968. Tutto è pronto. Si alza al sipario. The cartoon goes up. Sta per iniziare la terza edizione, la fase finale, degli europei di calcio. E quest'anno si giocano in Italia, al centro. Roma, Napoli e Firenze. È il primo grande torneo di calcio che ospitiamo, that way host, in più di 30 anni, dal 1934, dal regime fascista. Nel 1960 Roma aveva organizzato l'Olimpiade ed era stato un grande successo. E dopo la ricostruzione del dopoguerra, verso la fine degli anni Sessanta, l'Italia è ormai affermata come un paese emergente ricco, all'avanguardia in molti campi. È prospera e c'è lavoro. Questo periodo è passato alla storia come gli anni del boom economico. Eppure, questo torneo è anche difficile da gestire, to manage. Molte persone, soprattutto i giovani di tutto il mondo, criticano la guerra in Vietnam. In aprile era stato ucciso Martin Luther King e alcune ore prima dell'inizio del torneo, a 10.000 chilometri di distanza, a Los Angeles, avevano sparato. They shot a Bob Kennedy. che stava lottando tra la vita e la morte in ospedale. Ci potrebbero essere rivolte, riots, di ogni tipo in un mondo diviso tra destra e sinistra, conservatori e progressisti. E le ultime quattro squadre qualificate per la fase finale rispecchiano questo. L'Inghilterra, l'Unione Sovietica, la Jugoslavia e l'Italia, che cercava un suo posto politico nel mondo. Alle elezioni di maggio, un mese prima, aveva vinto la democrazia cristiana, il partito conservatore. Ma il partito comunista era subito dietro. Il partito comunista più forte in tutta l'Europa occidentale. Ed il calcio? La nazionale italiana viene da figuracce, brutte figure, da ormai 30 anni nei grandi tornei. Nel 1958 non si era qualificata al mondiale. Nel 1962 era stata eliminata dopo una rissa. Nel 1966 era stata eliminata male dalla Corea del Nord. Negli anni 60 la squadra era forte, ma non riusciva mai a vincere o a raggiungere finali o semifinali. Ma quest'anno si gioca in casa. In semifinale ci tocca, we have, l'Unione Sovietica. Giochiamo a Napoli sotto una pioggia fitta. I sovietici sono forti fisicamente ed hanno una buona tradizione. Hanno vinto la prima edizione e sono arrivati in finale nella seconda. Alcuni campioni si sono ritirati, ma la squadra è forte e organizzata. Però dopo soli tre minuti ecco che la partita si complica per gli azzurri, la nazionale italiana. Rivera, il nostro giocatore con più fantasia, si fa male e deve uscire dal campo. Bene, chi metteranno al posto di Rivera? Nessuno, perché fino al 1968 non esistono le sostituzioni. Dobbiamo giocare in dieci giocatori per tutta la partita e poi in nove verso la fine, perché si fa male un altro giocatore. Giochiamo allora in difesa e riusciamo anche a colpire un palo, ma il risultato finale è 0-0. I supplementari, the extra time, non cambiano niente. Si va allora i rigori, the penalties. No, non esistono ancora i rigori. E allora come si fa? Si usa la monetina, si tira la moneta e chi vince va in finale. I capitani delle due squadre e l'arbitro vanno negli spogliatoi, allora. The locker room. Per il passaggio alla finale deciderà il sorteggio che verrà fatto negli spogliatoi fra poco. La squadra italiana ha dato tutto quello che poteva. Ha giocato in dieci uomini dal terzo minuto, in nove uomini nei tempi supplementari. Ha colpito un palo nel finale. Sinceramente più di questo non poteva dare. Tutti vogliono testa. Heads. Poi il capitano sovietico cambia idea e prende croce. Tails. Lancio della monetina. Entra nella fessura. A crack. Del pavimento. Bene. Secondo lancio. è testa. L'Italia va in finale. Tutta Italia aveva visto la partita. Ma proprio tutta? Anche gli studenti? In quel momento a Milano ed in tutte le grandi città le università erano state occupate. Ma non era come in Francia per il maggio 68. In Italia le rivolte studentesche erano iniziate a Trento due anni prima, nel 1966, e poi per tutto l'anno successivo. Gli studenti volevano riforme, modificare il contenuto dei corsi, i metodi di insegnamento e la valutazione. Mettevano in discussione il potere accademico di chi comandava e governava. Era una rivolta generazionale. L'evento simbolo era Valle Giulia, il grande campus dell'Università di Roma che era stato occupato il primo di marzo. Ci sono stati scontri tra la polizia e gli universitari. Ci saranno 53 studenti feriti, wounded, e 160 tra i poliziotti. Secondo il movimento studentesco, gli ideali della resistenza sono stati traditi, betrayed. Il partito comunista è parte del sistema, non vuole cambiare. E nasce in questi anni una sinistra più radicale, anche con l'aiuto dei lavoratori delle fabbriche. Ma anche la destra si radicalizzerà. E lo scontro e gli attentati saranno inevitabili. L'opinione pubblica è spaccata. Alcuni danno ragione agli studenti, altri allo status quo. Ma intanto arriva l'8 giugno. A Roma, in finale, ci aspetta la Jugoslavia. Una squadra forte, molto tecnica. Sono un po' vecchietti, ma molto bravi tecnicamente. Il loro soprannome è il Brasile d'Europa, per la loro tecnica fantastica. E verso la fine del primo tempo, segnano. 1-0. Noi facciamo fatica ad attaccare, non siamo lucidi. Ma per fortuna, a dieci minuti dalla fine, Domenghini ci salva. Su un calcio di punizione, a free kick, tira molto forte e preciso attraverso la barriera, the wall. Il tiro è imparabile, impossibile da parare, fermare, per il portiere slavo. 1-1. Si va ai supplementari, ma non è abbastanza. Per la finale non c'è la monetina. C'è il replay. Si gioca di nuovo due giorni dopo. L'allenatore italiano, Valcareggi, decide che non va bene. Bisogna fare un cambio radicale. Cambia 5 giocatori su 11. Tra i nuovi, per la seconda partita, c'è Luigi Riva, detto Gigi. È un giovane attaccante di 24 anni, alto e robusto. Viene da un paese vicino a Varese, in Lombardia, e gioca in Sardegna, al Cagliari. È uno dei pochi del nord Italia che in quel periodo ha fatto un'immigrazione contraria, da nord a sud. Anche se la Sardegna, essendo un'isola, è una cosa a parte, diversa per molte cose dal sud Italia. La prima volta che Riva aveva visto la Sardegna da un aereo, pensava fosse l'Africa. Non voleva andare a giocare a Cagliari, fuori dalla civiltà, in un mondo passato. Ma c'è andato ed è rimasto. Era un orfano al nord, ma in Sardegna. Ha trovato la sua famiglia e non è più andato via. Il compagno di Riva in attacco è Pietro Anastasi, un giovane siciliano. È più basso di Riva, ma più agile. Ha un grande neo tra le sopracciglia folte ed un sorriso naturale. Viene da Catania e lui sì, lui ha fatto la migrazione da sud a nord, come più di un milione di altri meridionali che cercavano lavoro nelle industrie del nord. Pietro va a Varese e continua a segnare. Conquista la Nazionale e la Juventus decide subito di comprarlo. La partita non ha storia. L'Italia è più fresca e motivata, mentre la Jugoslavia non cambia nessuno. Sono stanchi e dalla fine del primo tempo vinciamo già 2-0. Hanno segnato Riva e Anastasi. Il primo ha fatto un gol di furbizia. A cunning move. ha segnato Riva. Il secondo un gol molto tecnico. Alzato la palla e tirato al volo. Incredibile. Anastasi. Rete splendida. Rete di Anastasi. Rete di Anastasi. Meravigliosa. Un passaggio di Adesisti e Anastasi a raddoppiare. Il secondo tempo è solo una formalità e l'Italia è campione d'Europa. E c'è il fischio dell'arbitro Ordiz Demendeville. Signori all'ascolto, qualunque cosa io ora dicessi sconerebbe. Sconerebbe di fronte allo spettacolo che sta svolgendosi all'Olimpico. Spettacolo che ci porta alla commozione. Perché dopo 30 anni, dopo 30 anni, la Nazionale italiana raggiunge un titolo internazionale. 30 anni che sono state spesso di delusione, tal'altra di amarezza, ma che in ogni caso possono essere ora bene accettati per la gioia che ci procurano in questo momento. Allo Stadio Olimpico di Roma il pubblico accende fiaccole e accendini nel buio. Sembra di essere ad un concerto rock. Per 30 anni dal fascismo non si ricordavano quelle vittorie del 1934, 36, 38. Non si parlava di calcio per non parlare di fascismo. Ora invece era diverso. La Nazionale ha unito il paese e così sarà dal 68 in poi. Infatti, quando l'Italia gioca nei tornei internazionali, e potete vederlo anche in questi giorni, questi sono gli unici momenti in cui vedrete la bandiera tricolore italiana. Vedrete un senso di orgoglio e di appartenenza. Belonging. Per una notte il paese è unito, ma è una tregua, a truce. La calma prima della tempesta. Gli anni 70 sono alle porte e saranno anni di scontri, di attentati, bombe e molto difficili per il nostro paese. Gli anni di piombo. Ma questa è un'altra storia che probabilmente racconteremo un'altra volta. Bene, spero che vi sia piaciuto questo episodio di Sport e Storia. E se vi è piaciuto questo episodio, commentate sulle mie pagine Instagram e Facebook. Iscrivetevi al podcast se non l'avete ancora fatto, così non vi perderete tutti gli aggiornamenti. La prossima settimana, invece, lasciamo il passato e parliamo di oggi. Parliamo un po' di politica e soprattutto proviamo a rispondere ad una domanda. Perché cambiamo governi così spesso in Italia? Però, per ora è tutto, per oggi è tutto e ricordate che non è la cultura che fa le persone, ma le persone che fanno la cultura. Quindi facciamo culture insieme. Alla prossima settimana, ragazzi. Ciao! Ciao!